Habt ihr alles vorher zusammen mitgecheckt? Mit di reding? D'avete questa pratica? Oder war das alles per... ...vermachare? Ehm... ...di erano, perciò che siamo in un'altra parte ...di erano, perciò che siamo in un'altra parte ...di erano perciò che stessi, 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 ...di erano perciò che stessi. C'è una gara prossima, che è del programma, Quindi come detto i esordienti del primo anno ...eche seconda prova del pomeriggio sportivo ciclistico ...in Borgo Vaziana Un'altra prova di sera Alla cosa è... ...dia è un'altra parte... ...dia è stata scatti da qui ...dia è stato scatti... ...dia è stata scatti... ...dia è stata scatti... ...dia è stato scatti... ...di erano per un'altro... ...di erano un'altro... ...di erano un'altro anno... ...dia è stato scatti... e cosa hai tu per la meisteria? la prossima settimana sono la ultima settimana i ultimi due anni sono l'ultima settimana i noti sono in servizio ingegrazione e io vedo questo prognostico ma io voglio anche lavorare ma vorallem prima settimana ma prima settimana per meisteria per meisteria per meisteria per meisteria Magdresti anche anche in una sportgimnazione? È il nostro sporto per la scuola, è molto molto vicino. Mi scopo è molto molto bene in una scuola e io voglio anche in un sporto per la scuola. Cosa chiede di un'università? Ente una docenza per la scuola, o di... ... Ho ancora una ricerca per la scuola per la scuola per la scuola. Come ha raggiunto il giusto questo giusto per il strumento? Grazie a tutti!